Io sono Alessandro Renna, sono il responsabile della prevendita per Suse e in questo tempo che mi viene concesso prima del pranzo vi racconterò quella che è un po' la storia che ha contraddistinto il lavoro di Suse, non tanto e non solo su OpenStack ma un po' in generale nell'open source, quindi cercheremo di andare un po' con la macchina del tempo, nel passato guardiamo anche un po' ad oggi e poi guardiamo un po' anche avanti quelli che sono i programmi che ha Suse su OpenStack ma in generale su quello che è un po' il tema della software defined infrastructure, chiaramente declinata con quello che è il paradigma dell'open source. Beh innanzitutto Suse compie gli anni, compie 25 anni, 25 anni come? 25 anni li compie Linux, Linux inteso proprio come il kernel, il progetto di Linus Torvalds che è nato nel 91 e Suse è nata poco dopo. Quattro ragazzotti tedeschi che in quel di Norimberga hanno avuto un'idea, hanno detto ma perché non cominciamo a sviluppare del software su questo progettino che si chiama kernel Linux? e hanno fondato questa società che si chiama System Un, in tedesco, un tedesco impronunciabile che comunque vuol dire software e sistemi, società di software e sistemi. Chiaramente è passato tanto tempo dal 1992 e oggi Suse è una multinazionale che è presente in tutto il mondo e si è espansa attraverso quello che è un suo ecosistema di partner che fanno software, hardware, che fanno anche servizi di consulenza e di integrazione. In questa storia Suse ha raggiunto una serie di milestones e di traguardi importanti mettendo sempre al centro quella che è una delle sue filosofie relative a come sviluppa il software open source. Innanzitutto contribuisce direttamente allo sviluppo di progetti open source che ritiene essere più interessanti per specifici ambiti. Non è penso un segreto la partnership molto stretta con SAP, con tutto quello che ha a che vedere con il mondo SAP. Suse è da 15 anni che è un partner di SAP sul quale sviluppa delle tecnologie open source specifiche per determinati ambiti, che sono particolarmente sentiti laddove per esempio è necessario garantire la continuità del servizio, garantire sistemi che siano assolutamente solidi e stabili. Un esempio di questi potrebbe essere la tecnologia di high availability open source che ha sviluppato attorno ad alcune soluzioni che oggi sono disponibili chiaramente per tutti, in quanto fanno parte di progetti particolarmente conosciuti e particolarmente utilizzati. Ma veniamo un attimo al tema di oggi che è poi OpenStack. Suse ha creduto in OpenStack sin dall'inizio, è stata una delle prime aziende di software che hanno partecipato e hanno contribuito a quella che è la nascita della OpenStack Foundation. In che modo? Beh, innanzitutto cercando di fare sua quella che era la filosofia che aveva sempre usato in passato per fare la distribuzione di Linux. È partita da un problema, un problema serio. OpenStack è un progetto assolutamente interessante, ma dobbiamo andare un attimo indietro nel tempo, dobbiamo tornare indietro a 6 o 7 anni fa, quando OpenStack era veramente embrionale. E ha detto, ok, ma io come faccio a rendere fruibile questo progetto estremamente interessante per una platea di utilizzatori che sia un po' più ampia rispetto a quello che può essere lo sviluppatore o colui che contribuisce upstream. E allora ha iniziato a contribuire economicamente per la creazione della OpenStack Foundation come Platinum Sponsor. E fattivamente, attraverso quello che è il lavoro degli sviluppatori, di una parte di sviluppatori di Suse, per andare a sviluppare determinate funzionalità e fare quella che è una distribuzione di OpenStack, che non è troppo diversa da quella che è una distribuzione di Linux. La stessa identica filosofia è stata applicata in questo nuovo progetto di Infrastructure as a Service, in chiave Private Cloud, chiaramente. Quindi sostanzialmente si prendono tanti pezzi che sono disponibili, li si mettono assieme e attraverso quello che comunque è un elemento che fa anche un po' la differenza tra una distribuzione di OpenStack e l'altra, che è l'installer, ti permette di fare quello che è il deploy della soluzione. Attraverso poi chiaramente un ciclo di vita che viene garantito, un supporto tecnico che viene mantenuto per un periodo di tempo prestabilito. Quindi una delle aree su cui si è sempre concentrata Suse nello sviluppo della sua distribuzione di OpenStack, che peraltro è stata la prima in assoluto sul mercato, parliamo di una versione che era basata sulla release Essex di OpenStack. Oggi stiamo guardando la Pike, quindi insomma ce ne sono stati un bel po' in mezzo. Questa prima distribuzione si concentrava su alcuni aspetti che per esempio in quel momento per la community non erano prioritarie, come per esempio andare a guardare la parte di qualità del codice attraverso alcuni sistemi di quality assurance e di continuous integration e continuous delivery che facevano già parte dell'infrastruttura di Suse, con la quale sviluppava il sistema operativo. Un altro aspetto su cui si è concentrata particolarmente sin dall'inizio è l'aspetto legato alla sicurezza. verificare che il codice fosse conforme a determinati standard che la qualità e non ci fossero delle vulnerabilità scoperte o ancora da scoprire. Quindi questo è stato un po' il lavoro iniziale di Suse, farlo crescere e renderlo un po' più stabile, un po' più maturo, un po' più consumabile, non solo per chi è un addetto ai lavori. partire quindi da una scatola di attrezzi e dare invece quella che potrebbe essere una macchina già pronta all'uso. Uno degli elementi quindi che Suse ha sempre portato come valore rispetto a quella che può essere la distribuzione OpenStack è la possibilità di non solo fare un deployment rapido, ma anche poter fare un aggiornamento da una release all'altra. Parlavamo di Essex, che è una release molto molto vecchia, ma sappiamo bene che l'OpenStack Foundation e il progetto OpenStack rilascia almeno due major release ogni anno. Provare a ipotizzare un utilizzo in una infrastruttura dove i rilasci non possono essere così veloci diventa abbastanza difficile. Quindi si può trovare un compromesso in che modo? Garantendo la possibilità di aggiornare tutto senza dover reinstallare da zero. Questo è un altro ambito su cui Suse si è concentrata da subito. Un altro ambito assolutamente prioritario in quella che era la lista delle cose da fare era garantire che sia la parte di control plane sia la parte di compute node fosse high available. Chiaramente ci sono tutta una serie di considerazioni che si possono fare sul fatto che OpenStack non è pensato per dei workload che siano mission critical o per workload che invece sono un po' più orientati all'essere nativi sul cloud. Quindi mi aspetto che l'infrastruttura sia in qualche modo resiliente, che sia in grado di automaticamente far ripartire i nodi o gestire quelle che possono essere dei failure. Non dimentichiamoci però che OpenStack nel frattempo è diventata una soluzione adatta o adattabile anche per quei workload che non sono pensati per il cloud, che sono magari con un'architettura un po' più tradizionale e quindi hanno bisogno di un'infrastruttura che sia in grado di sostenere un failure infrastrutturale. E allora che cosa ha fatto Suse? Forte dell'esperienza che aveva da 15 anni su alcuni progetti specifici, sulla parte di HA, ha incluso, senza dover reinventare da capo la ruota, ha incluso queste tecnologie all'interno del progetto OpenStack, garantendo quindi per esempio attraverso pacemaker e corosync la possibilità di avere i control plane in alta affidabilità. E lo stesso è stato fatto poi sulla parte di compute node per gli hypervisor. Quindi oggi possiamo dire che OpenStack è un progetto maturo, è un progetto che è particolarmente ricco di funzionalità e si evolve altrettanto velocemente. Suse in questo contesto ha continuato a sviluppare attorno a quello che è il concetto di software defined infrastructure e non ha soltanto sviluppato quindi una distribuzione di OpenStack, ma ha costruito tutta una serie di componenti che poi vanno a completare quella che potrebbe essere, questa è un po' la foto di famiglia delle soluzioni di Suse, che prendono sempre i migliori, quelli che riteniamo essere più maturi o comunque più interessanti progetti open source per andare poi a creare un'infrastruttura definita via software che a partire chiaramente dal sistema operativo che è il mattone fondante, va a gestire una parte di deployment, di management con soluzioni che possono essere una interoperabile rispetto all'altra. Per esempio il deployer di Suse OpenStack Cloud utilizza Chef, ma poi ve ne parlerò un po' più nel dettaglio, può tranquillamente utilizzare anche Ansible. Per quanto riguarda la parte di software defined infrastructure, noi abbiamo sempre cercato di dare più scelte rispetto a dare una sola possibilità. Quindi così come si parla di Sult, si parla di Chef, si parla di Ansible, si può anche parlare di KVM ma anche di Xen, per quanto riguarda la parte di hypervisor supportato. Poi chiaramente ci sono state tutta una serie di evoluzioni molto interessanti, che hanno comunque a che vedere con OpenStack. La parte di container e di container orchestration. Abbiamo di recente annunciato e rilasciato una piattaforma di container management basata su Kubernetes, che permette quindi di fare la gestione di container e container applicativi attraverso una soluzione che posso chiaramente utilizzare su una IaaS, che può essere OpenStack, ma posso anche utilizzarla su un'infrastruttura di virtualizzazione tradizionale o su un public cloud. E lo stesso discorso stiamo portando avanti per quanto riguarda invece la parte di application delivery in ambito cloud, quindi più legata a quello che può essere lo sviluppo proprio del codice. E su questo Suse, ormai da più di un anno, ha abbracciato il progetto di Cloud Foundry e la Cloud Foundry Foundation, attraverso tutta una serie di attività che esattamente come avvengono sulla OpenStack Foundation, portano a sviluppare poi un prodotto enterprise, un prodotto che abbia un ciclo di vita, un supporto e tutta una serie di garanzie. guardando anche al futuro, vi voglio raccontare quello che poi in realtà è successo nell'immediato passato, ma ha un'implicazione piuttosto significativa anche per il futuro, per quelli che sono i progetti e i programmi che ha Suse relativamente al suo contributo nell'ecosistema di soluzioni open source. Questi sono un po' di annunci che sono stati fatti nell'ultimo anno, più o meno, alcuni sono stati abbastanza interessanti dal punto di vista dell'impatto che poi hanno avuto su quello che è il lavoro che sta facendo Suse su questo tema. Beh, innanzitutto Suse ha sempre avuto una fortissima impronta verso il lavorare assieme ai partner, creare un ecosistema di partner, non forzare necessariamente verso uno stack che sia tutto basato su soluzioni che si costruisce in casa, perché poi è anche il bello dell'open source, si collabora ma poi alla fine si cerca di dare qualche cosa che funzioni con altre soluzioni. Un esempio, nell'ecosistema OpenStack Mirantis e Suse hanno fatto un accordo, un accordo di reciproco supporto relativamente al fatto che Mirantis OpenStack, quindi se andiamo a vedere la parte proprio di IaaS, funziona ed è certificata ed è supportata anche su computer node basati su Suse. Suse ha stretto un accordo con HPE, che poi vedremo anche più nel dettaglio, relativamente al supporto per Linux e allo sviluppo di Helion OpenStack Cloud su una base di tecnologie comuni, OpenSource. Sempre in un'ottica di partnership, Suse ha lavorato assieme a Fujitsu per esempio per sviluppare attorno al progetto OpenSource Monasca una soluzione di Cloud Monitoring Enterprise che oggi è disponibile all'interno di Suse OpenStack Cloud 7, ma è anche disponibile come soluzione a catalogo di Fujitsu. Ci sarà anche una sessione specifica di approfondimento su questo e se siete interessati ad approfondirla vi invito a seguirla. Sicuramente una delle cose più interessanti che sono avvenute negli ultimi sei mesi è l'annuncio da parte di HPE di innanzitutto stringere una partnership molto forte con Suse dal punto di vista del sistema operativo. Inoltre Suse ha acquisito da HPE una buona parte di quelli che sono gli sviluppatori che lavorano all'interno del progetto Helion HPE che si costituisce sostanzialmente di due parti. Una parte IAS con Helion OpenStack e una parte PASS con Pivotal Cloud Foundry. Sostanzialmente questo accordo prevede il fatto di sviluppare assieme all'interno chiaramente di quello che è il framework di Suse due soluzioni che vanno a convergere su un'unica roadmap. Quindi giusto per darvi un attimo una panoramica un overview di quello che avverrà nell'anno prossimo. La roadmap prevede di andare a far convergere quelli che sono sostanzialmente due prodotti Helion OpenStack 6 e Suse OpenStack 8 che avranno un core unico. Chi di voi ha già lavorato un po' con Helion saprà che Helion per esempio ha il suo deployer che è basato su Ansible che si chiama HPE Lifecycle Manager. HPE Lifecycle Manager verrà aperto, diventerà un progetto open source chiamato Ardana all'interno del quale si continuerà a portare avanti lo sviluppo e si potranno fare tutte le attività di deployment e di configuration e di gestione. La base di sistema operativo cambierà per quanto riguarda la parte Helion. Non sarà più HLinux, questo Linux sviluppato da HPE, ma chiaramente sarà SLES, SUSE Linux Enterprise Server SP3 che ovviamente è la versione più recente. Poi ci saranno delle convergenze ovviamente su alcuni componenti macro della soluzione. la major release upstream sarà Pyke che è la più stabile e la più recente. Il DB sarà MariaDB con clustering nativo ActiveActive e poi tutta una serie di altre funzionalità che a partire dal multisite sono molto interessanti soprattutto quando si parla di un deployment significativo e chiaramente anche una cosa molto importante, possibilità di aggiornare. aggiornare da Helion, aggiornare da SUSE OpenStack Cloud, non mi interessa quale versione, garantisco la continuità e ti garantisco un futuro senza dover reinstallare niente, senza aver buttato via magari un investimento che è stato fatto, un investimento significativo. Ovviamente anche cercando di dare un occhio a quello che è la funzionalità che è stata magari sviluppata in passato, che continui a funzionare senza regressioni, garantendo quindi un percorso verso le prossime release il più possibile, tra virgolette, in dolore. Io terminerei qui, così magari riusciamo anche a rimanere un po' nei tempi. Noi abbiamo uno stand qui all'ingresso, quindi se voi volete anche approfondire alcuni temi che ho buttato lì sul tavolo, siamo qui fino alla fine, ci sono io, c'è Marta, la mia collega. Vi ricordo un altro evento molto interessante, a mio avviso, spero di rivedervi qui, che è sponsorizzato sempre da SUSE, Open Source Networking Days, si terrà proprio qui, ovviamente, dove parleremo di temi che sono molto vicini a quello di oggi, dove OpenStack è uno dei componenti, ma parliamo di Network Function Virtualization, parliamo di Software Defined Networking, con sviluppatore di SUSE, sviluppatore di altre aziende che stanno lavorando su questo tema. Se siete interessati a capire meglio cosa sta succedendo su quel tema, la data da assegnarvi nel calendario è il 12 ottobre. Io vi ringrazio per l'attenzione e a questo punto vi auguro buon pranzo.